Ecco, i vostri ragazzi sono riusciti a prenotarsi? Ma in realtà sono alcuni, e precedentemente rispetto all'apertura del portale per le persone fragili, perché la prima indicazione era di chiamata diretta da parte delle USL, e quindi noi siamo riusciti a trasmettere, a far recepire una nostra lista dalla USL che ha chiamato alcune delle persone fragili, diciamo che fanno riferimento alla nostra associazione. E poi in realtà è stato aperto il portale e da lì in poi la situazione si è complicata. A parlare è il presidente dell'associazione Persone Down, sezione di Arezzo. Per alcune famiglie è stata una vera e propria odissea riuscire a prenotare il proprio congiunto, il proprio familiare, i soggetti cosiddetti super fragili che hanno accesso al vaccino anti-Covid. Non erano veicolate delle informazioni per cui molti di loro hanno fatto anche una registrazione errata, che è stato molto difficile poter cancellare per poi dover fare una nuova prenotazione con i codici corretti. Il portale perlomeno ieri è stato per molte ore in tilt e quindi poi ora sembrerebbe funzionare, ma in realtà le dosi sono esaurite in questo momento. Ci sono stati dei doppio-triplicanali. In alcuni casi, per esempio, alcune persone sono state vaccinate come riservisti e segnalati dagli assistenti sociali. Anche qui ci sono assistenti sociali che hanno fatto la segnalazione e ci sono stati quelli che non l'hanno fatta. Per i cargivers stiamo aspettando di capire poi effettivamente che cosa succederà, perché, insomma, francamente qualcosa non funziona se anche il Presidente della Regione deve mandare un messaggio sui social per dire non fate così, ma aspettate perché si dovrà fare cosa ha. Quello che consigliate ora di fare, ecco, che cos'è? Ovviamente ai vostri associati, ma anche a tutti coloro che fanno parte dell'associazione persone down in Italia. In realtà in questo momento stiamo consigliando la pazienza, perché abbiamo faticato a capire quale potesse essere la procedura per annullarla e rifarla. Quindi in alcuni casi sono state rifatte queste registrazioni, chiaramente perdendo anche una priorità. Insomma, anche questo evento forse si poteva evitare, dando delle comunicazioni più corrette in partenza.